le regole per rimorchiare ormai sono una scienza seguite il mio metodo imparerete a conquistare qualsiasi ragazza in sette ore julio non saltare alle conclusioni io non lo so se queste cose che racconti sono veri oppure no però può dire mia vita il mondo è pieno di ragazze carine e disponibili ciao sono ernesto ti posso conoscere vai a cagare vedi riconquistare un ex la cosa più difficile del mondo se qualcuno se l'è portata via perché ai suoi occhi aveva più valore di te sei venuta da solo al mare sì veramente verissimo termine mensole no è un test dello zerbino se ci tieni veramente a questa ragazza tira fuori le palle smettila subito è perché piccere la ti dà fastidio julio non chiamarmi piccere la te l'ho insegnato io con me non attacca si simboli che stai mettendo così come così che significa niente come niente seduzione così non vale muoio dalla curiosità ecco brava muori senti ma se dovessi pensare di iscrivermi no che tengo bisogno perché diciamo anche se non sono bello una mia nicchia mi vado abbastanza forte grazie mille grazie mille grazie mille